La polizia di Stato ha arrestato un 36enne siracusano già detenuto ai domiciliari per spaccio di droga, ancora per detenzione a fini di straffico di sostanze stupefacenti. Lo ha trovato soprattutto in campo in azione e individuazione all'interno di un'abitazione della zona di Via Italia, luogo all'interno del quale avveniva l'attività. Nell'ambito del servizio predisposto il personale della squadra mobile con l'ausilio dell'unità cinofila della questura di Catania, conduttori del cane poliziotto Elvis, ha proceduto al controllo dell'abitazione trovando un vero e proprio supermarket della droga, un laboratorio di produzione ma anche smestamento di sostanze stupefacente. Rinvenuti e sequestrati 250 grammi di ascice, 40 grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina. Parte già divise in dosi per essere venduta. All'interno materiale per il confezionamento, ma anche una pistola salve e fedele riproduzione di una beretta di quelle in uso alle forze dell'ordine. L'indacato pregiudicato per i reati in materia di stupefacenti, già agli arresti domiciliari, al termine del rito è stato posto di nuova agli arresti a disposizione del PM. A Siracusa il nascosto stupefacente in una trave dal soffitto è stato arrestato da parte dei carabinieri in flagranza di reato Antonio Genova, siracusano classe 72, disoccupato e già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. I carabinieri avevano scoperto che Genova si era trasferito a vivere in condizioni precarie all'interno di un'abitazione abbandonata nella quale gestiva un piccolo traffico di droga. E' effettuata una perquisizione nello stabile, hanno rinvenuto ben 11 dosi di crack, 13 di cocaina, 4 di hashish e 4 di marijuana, già confezionate e pronte per essere vendute. La somma, poi contante di 185 euro, verosimilmente provento di attività di spazio, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre. A Casibile invece viola ripetutamente gli arresti domiciliari e i carabinieri hanno tradotto in carcere Alan Cannetti, classe 82, condannato per reati contro il patrimonio. Calano i contagi in provincia di Siracusa, resta stabile comunque il dato sui positivi riportato dalla regione siciliana. 603 nuovi positivi nel bollettino del 19 maggio con 10 decessi, tanto meno con terapie intensive recovery covid e ancora 2 milioni e 74 mila circa i vaccini che sono stati inoculati. In provincia di Siracusa sono 48 nuovi positivi nel bollettino del 19 maggio. Intanto continua la campagna vaccinale con la promozione dal 21 al 23 maggio proteggi te e i tuoi nonni per gli ultraottantenne e gli over 18 con ingresso libero senza prenotazione. Per gli over 18 su base volontaria sarà effettuata vaccinazione con il nuovo vaccino di AstraZeneca e il Johnson con una sola inoculazione. Intanto Vincenzo Parlato, primo cittadino del comune di Sortino, fa riepilogo della situazione in un comune che è stato a zona rossa, dando informazioni utili anche per il resto della provincia. Cari amici, buongiorno. Oggi vi aggiorno sulla situazione epidemiologica che sta migliorando notevolmente. Siamo a circa 40 positivi per cui abbiamo più che dimezzato il numero delle persone in quarantena fiduciari a casa e con i contatti siamo a circa 10-12 nominativi per cui capite bene che la situazione sta migliorando e questo sarà anche frutto delle vaccinazioni perché effettivamente Sortino in questo momento ha raggiunto il 43% delle persone sottoposte a vaccinazione perché vaccinabili ed è uno degli indici più alti della provincia di Siracusa per cui questo ci fa ben sperare per il futuro perché così possiamo mettere in sicurezza la maggior parte della popolazione nel più breve tempo possibile. Le informazioni che vi voglio dare oggi intanto sono importanti riguardano il CCR, gli orari di apertura del centro di raccolta comunale perché da sabato 22 e fino al 30 di settembre gli orari saranno e le aperture dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il sabato e la domenica invece, orario continuato dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Il numero verde ve lo segnalo è 351 55 55 632 e il numero verde è 822 33 01 con cui potete prenotare anche il ritiro dei RAE a casa per quelle persone anziane che non hanno la possibilità di conferirlo tutti i giorni comunque al CCR. Questi numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Per quanto riguarda i lavori della strada di Carlentini sono stati ultimati quelli di natura leggera per cui la rimozione dei massi che potevano essere messi in sicurezza più il diserbo per cui il transito è consentito e ci sarà poi, ma questo passerà ancora del tempo, sicuramente andremo in piena estate, la caduta controllata del masso in quel caso quando sarà fatto quell'intervento la strada sarà completamente sbarrata ma vi terrò informati in maniera tale da poter utilizzare i percorsi alternativi. Nel frattempo già da questo fine settimana viene ripristinata l'isola pedonale che riguarda la via Principe di Piemonte e il corso Umberto principalmente e la via Santissima Annunziata. Per cui partiamo già da giorno 21 maggio, venerdì dalle 20 alle 23. giorno 7 giugno e fino al 20 giugno, dalle 20 alle 24 e dal 21 giugno, cioè da quando poi non ci sarà più il coprifuoco, dalle 20 alle 24 il venerdì, dalle 20 a luna il sabato e dalle 20 alle 24 nella giornata della domenica. Tutte le domeniche, vi ricordo sempre, rimane in vigore l'isola pedonale dalle 10 all'una e questo a prescindere dal calendario che vi ho dato. Questo per consentire alle attività commerciali di utilizzare lo spazio intanto all'aperto perché fino a questo momento è l'unico disponibile. Mi raccomando con i ragazzi e soprattutto con i gestori di attività commerciali di servire esclusivamente ai tavoli nelle modalità che conoscete bene per quanto riguarda la sicurezza e il distanziamento. Capite che il contagio ancora c'è, fortunatamente con le belle giornate tende a diminuire, questo ci metterà nelle condizioni di riprendere la normalità, però allo stato attuale è sempre opportuno non abbassare la guardia, per cui vi auguro un buon fine settimana e qualora ci saranno aggiornamenti da fare sarò qui pronto sempre a darvi la giusta informazione. Intervento congiunto ieri mattina di Polizia Municipale, Tecra e assistenti sociali per riportare decoro al parcheggio Talete per affidare ai servizi sociali del comune i senza tetto che la notte vi trovano riparo. Proprio ieri all'interno della struttura è andato a fuoco un cumulo di spazzature ed è stato necessario chiamare i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. I rifiuti vengono abbandonati dai senza tetto e creano una situazione di grave pericolo e non solo per loro stessi. Gli uomini della Tecra hanno operato con tre mezzi e una spazzatrice per il lavaggio e la disinfestazione di tutta l'aria coperta e di quella esterna ripristinando l'igiene. Una situazione è diventata ormai insostenibile, commenta l'assessore alla Polizia Municipale all'Igiene Urbana Andrea Buccheri, ma abbiamo voluto operare con i servizi sociali affinché prendessero in carico le persone senza casa che non hanno apposto alcuna resistenza e fosse offerta loro una situazione alternativa. Un incendio in un parcheggio coperto che si estendesse alle auto avrebbe conseguenze devastanti e non si poteva più aspettare. In arrivo 60 milioni di euro da Roma per il CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane. L'accordo è stato raggiunto dall'assessore regionale alle infrastrutture Falcone durante un vertice che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture. Missione compiuta, dice, queste risorse serviranno dare respiro a cantieri vitali come la Siracusa Gela e alle imprese impegnate sul campo. Lo sblocco di queste somme è diventato possibile grazie al risanamento del CAS voluto dal presidente Musumeci, ha commentato l'assessore Falcone, che era accompagnato dal direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Salvatore Minaldi. L'accordo raggiunto dal governo Musumeci permetterà di riscuotere le somme in una prima tranche immediata da 35 milioni di euro che permetterà di saldare un debito che il CAS aveva con ANAS. Entro giugno poi il Ministero liquiderà al Consorzio altri 25 milioni di euro. A Siracusa, nel cuore della zona industriale, per rilanciare il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è una delle tre piazze siciliane individuate da CGL e Cisle Will nazionali e regionali per parlare del patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presentato dalla Confederazione. Nel piazzale della Mensa Ovest si sono ritrovati un migliaio di lavoratori, rappresentanza di tutte le categorie impegnate nel polo energetico e anche in altri settori. Sono 185 morti sul lavoro all'inizio dell'anno, 7 in Sicilia. Lo scorso anno ci sono state 554 mila denunce di infortunio segnalate all'Inail, oltre 1.200 con esito mortale. La sicurezza è un investimento che le imprese devono sostenere. I sindacati si rivolgono proprio al governo, chiedendo il blocco di licenziamenti e garantendo gli ammortizzatori sociali. La crisi non è ancora superata e non possono pagare i lavoratori. Tanta delusione nelle parole del primo cittadino di Floridia, Marco Cariani, dopo che è stata vandalizzata la fontana di piazza vittime della mafia Floridia. La mia amministrazione, sottolinea Cariani, con tutta la giunta ha sempre lavorato, in unione anche con l'ufficio tecnico e di manutenzione per ridare pulizia e decoro alla città. Ma forse c'è chi vuole che Floridia torni ad essere quella di sette mesi fa. Avevamo fatto tanto per poterla rendere nuovamente attiva e mi vergogno per gli autori del fatto. Il tutto mentre qualche giorno fa è stata illuminata la fontana, anch'essa ripristinata, di Chiesa del Carmine. La piazza è stata illuminata di Viola per la giornata mondiale delle malattie infiammatorie e croniche intestinali, ad esempio il morbo di Crohn, malattie invisibili a cui l'amministrazione, attraverso l'assessorato alla cultura condotto da Paola Gozzo, ha voluto appunto sottolineare consapevolezza, ma che ha destato anche suggestione ed emozione tra gli abitanti nel vedere il decoro e l'igiene, che adesso caratterizza una delle piazze più belle di Floridia. L'appello resta quello della tutela e del rispetto della cosa pubblica. Un safari fotografico all'aria marina protetta del Plemirio. L'appuntamento è domani, sabato 22 alle 9.30 nel Traversa Sant'Agostino, sbocco 34 dell'AMP del Plemirio. L'organizzazione è proprio del consorzio che attraverso le guide ambientaliste specializzate guiderà fotografi dilettanti, professionisti o semplici amanti della natura e del mare in un safari fotografico fotografico. Protagonisti saranno la flora e la fauna della riserva naturale, che in questo periodo dell'anno in particolare offrono panoramiche e soggetti fotografici di particolare bellezza. Le raccolte delle foto, poi 4-5 scelte del fotografo, saranno inviate all'indirizzo mail info-plemmirio.it